Per l'Inter un'altra delusione nonostante la generosità e la grinta. Squadre rimaneggiate, partita molto vibrante, specie nella ripresa e nei supplementari. In buona serata Schillaci, mentre i Nerazzurri mandano avanti i difensori a cercare il gol. Qui vediamo Bergoni. Nella ripresa l'Inter in percussione con Fontolanbella, girata, e Breme, autore di questo diagonale. Peruzzi è in grande serata e per i Nerazzurri c'è il pericolo di Baggio, inserito da Trapattone al posto di Alessio. L'Inter è però molto determinata ed il gol di Ciocci sul mercato di Berti apre le speranze di qualificazione dopo l'1-0 dell'andata. La squadra di Suarez sembra adesso scatenata, ma Peruzzi riprende a parare tutto. Si va insomma ai tempi supplementari ed i Nerazzurri cercano di passare con del vecchio sostituto di Fontolanbella. Ma la Juventus, grazie a Baggio, riesce con una bellissima punizione a battere Zeng con un tiro sotto la traversa. È praticamente il gol che decide la partita, perché l'Inter crolla psicologicamente. Comunque si butta generosamente in avanti. C'è un gol annullato al del vecchio per fuorigioco, lo vedete, e a questo punto si verifica il brutto fallo di Montanari nel secondo tempo supplementare su Di Canio, che esce dal campo. L'espulsione di Desideri per somma di ammunizione ed il gol di Baggio in contropiede dà il successo alla Juventus per 2-1. Comunque anche l'1-1 avrebbe qualificato la squadra bianconera.